salve a tutti friends dal vostro super corris beh ragazzi questi sono quei video che io da esterno vorrei vedere su un canale youtube perlomeno sarei contento di vedere sul mio canale perché sono video che ci fanno ripercorrere la storia della formula 1 e qui parliamo di un record che non è mai stato battuto nella storia a parte quello di chi non ha mai vinto oltre i 300 grand premi ma ragazzi è normale che questo record non è stato battuto perché prima non ci arrivava nessuno a 300 grand premi quindi non è tutto questo record importante questo record che sto parlando di cui sto parlando io è un record che ad oggi solo Hamilton può battere e quello veramente si sarebbe un record clamoroso che mai nessuno è riuscito a battere adesso ne parliamo come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali ragazzi c'è quello degli shorts molto bello dove metto sempre notizie in anteprima mi raccomando iscrivetevi c'è quello della palestra dove parlo della storia del bodybuilding e di consigli di allenamento c'è super corris gamer dove oltre ai videogiochi tanti videogiochi c'è la formula c'è la moto gp il calcio e rally parlato quindi discutiamo dei risultati e probabilmente anche dal punto di vista rally le live quindi iscrivetevi a tutti questi canali se avete voglia sostenetemi lasciate un like seguitemi su tutti i miei social sul canale telegram delle offerte dove tutti i giorni mi sto mettendo le migliori offerte di amazon ragazzi iniziate a mettere il merchandising della formula 1 non solo della ferrari della ferrari della red bull della mercedes ho iniziato a mettere le magliette di calcio ho messo le magliette della you del milan della rom del napoli adesso appena trovo pure quelle dell'inter mettiamo tutto sto cercando di variare anche gli argomenti sul canale delle offerte perché secondo me ragazzi sono cose che a voi possono interessare a tutti piace comprare una maglietta se c'è una buona offerta perché non farlo c'è fruit lab c'è il canale viola e c'è il canale ufficiale super corris 84 di telegram per le news in anteprime sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere questa sera su questo canale ragazzi tornerà formula 1 live news quindi verso le 9 9 qualcosa faremo la nostra bella live parlata e ci divertiremo insieme allora nella storia della formula 1 ben sette piloti sentita me sette piloti sono riusciti a vincere i mondiali le strisce di mondiale anche solo un mondiale e un mondiale in due epoche diverse quindi che significa hanno vinto un titolo mondiale è passato poi un anno senza vincere e poi hanno vinto un altro o altri titoli mondiali in successione alle volte sono passati tanti anni quindi è chiaro ragazzi che vedete non è facilissimo vincere mondiali dopo che l'hai perso abbiamo visto tanti campioni tipo raikkonen ha vinto un mondiale e non ne ha vinti più vettel ha vinto quattro mondiali consecutive non ne ha vinti più akkin ne vinse due non ne ha vinti più il vilnev mansel sono tantissimi piloti pure molto forti che hanno vinto un mondiale o diversi mondiali affilati lo stesso alonso non sono riusciti per vincere altri mondiali quindi vincere in epoche diverse anche se si parla solo di vinco un mondiale un anno non lo vinco l'anno dopo lo rivinco per la formula 1 ragazzi è un'epoca enorme perché come stiamo vedendo la formula 1 voglio tre anni sono una marea di tempo chi sono questi piloti che e dopo c'è chi ha fatto molto meglio ancora chi sono questi piloti che questi sette piloti che sono riusciti a vincere i mondiali in due epoche diverse allora il primo one man al fangio cinque volte campione del mondo fangio vince il primo mondiale nel 51 dopo rimane per diversi anni due anni senza vincere il mondiale quindi 52 53 i titoli di ascari e poi dal 54 al 58 vince altre 4 titoli mondiali quindi vedete dopo un digiuno di due anni fangio torna a dominare a vincere quattro mondiali consecutivi come ha fatto vettel il secondo ragazzi è jack bravam jack bravam omonimo anche costruttore di auto in quegli anni vince i mondiali 59 60 e poi tornerà a vincere un mondiale nel 66 quindi vedete ragazzi ben sei anni dopo sei anni d'assinenza per jack bravam poi c'è jim clark jim clark vince il mondiale nel 63 e lo rivince nel 65 qui purtroppo clark poi scompare probabilmente avrebbe vinto altri titoli graham hill padre di demon hill vince il mondiale nel 62 e nel 68 quindi ben sei anni dopo in tempi più recenti airton senna vinse il mondiale dell 88 perse quello dell 89 e poi vinse quello del 90 e del 91 quando andò in williams senna poteva diventare tra i cinque piloti il sesto che avrebbe potuto vincere se avesse vinto un mondiale in williams in tre epoche diverse non solo in due che è pazzesco l'altro pilota che ha vinto mondiali due epoche diverse stato schumacher 94 e 95 con la benetton poi rivinso dal 2000 al 2004 con la ferrari anche schumacher ci ha andato vicino perché nel 2006 se avesse vinto il mondiale avrebbe vinto mondiali in tre epoche diverse che è tosta ragazzi perché ripeto alla velocità con cui progredisce la formula 1 ma anche come ricambio generazionale piloti è veramente tosta ora voi mi direte c'è qualcuno che ha fatto meglio sì perché ci sono cinque piloti non uno ben cinque piloti nella storia della formula 1 che hanno vinto mondiali in tre epoche diverse quindi hanno vinto il primo o i primi titoli hanno avuto una pausa quindi sono stati sconfitti hanno rivinto sono stati sconfitti nuovamente hanno rivinto cioè pensateci ragazzi qualcosa di pazzesco piloti che si sono riusciti a riprendere il titolo per ben due volte è qualcosa di incredibile il primo chi è jackie stewart allora jackie stewart ragazzi ha alternato sempre la vittoria di mondiale a una sconfitta non è mai riuscito a confermare il titolo mondiale vince nel 69 perde nel 70 vince nel 71 perde nel 72 contro fittipaldi e rivince nel 73 a non avevo citato scusate ragazzi lo stesso fittipaldi che ha vinto il mondiale nel 72 nel 73 ha perso e nel 74 quindi è tra i sette che hanno vinto il mondiale in due epoche diverse quindi vedete stewart tra 69 il 73 vince tre mondiali intervallati da due sconfitte in epoca più moderna c'è nikki lauda nikki lauda ragazzi non riesce a vincere un mondiale affilato nonostante potrebbe nel 76 purtroppo poi ci fu il rogo del nurburgring che non lo aiuta a vincere quei mondiali consecutivi lauda vince il mondiale nel 75 nel 76 perde contro james hunt nel nel 76 nel 77 rivince il mondiale con ferrari prima va in alfa romeo bravan poi si ritira poi torna a correre nell'84 vince il mondiale per mezzo punto su alain frost quindi vedete ragazzi qua c'è una pausa di sette anni probabilmente di quelle che stiamo vedendo della pausa più lunga di un pilota tra un mondiale e un altro sette anni tantissimo nikki lauda ha questo record altro pilota che ha vinto mondiali in tre epoche diverse è nelson piquet piquet vince il primo mondiale nell'81 con la brava sempre nell'82 viene sconfitto da keke rosberg quello un mondiale stregato e lo vince rosberg il meno indiziato quell'anno rivince il mondiale nell'83 sempre con la brava battendo le ferrari tra le altre e le renault rivince il mondiale nell'87 quando è compagno di squadra di nigel mansell lo batte con la williams honda il penultimo pilota che citiamo in questa classifica è alain frost perché perché frost vince i primi due titoli nell'85 86 in questo biegno nell'87 viene sconfitto dalle williams non riesce a ripetersi nell'88 perde il confronto interno con ayrton senna rivince il mondiale nell'89 il suo terzo titolo mondiale quindi vedete si riprende la corona nel 90 perde il mondiale nei confronti di senna con la ferrari lui e senna con la mcclare nel 91 altra scoppola con una ferrari non competitiva rivince senna nel 92 frost si prende un anno sabbatico nel 93 torna in williams per una sola stagione vince il quarto mondiale quindi il terzo in epoche diverse non a caso dall'89 al 93 sono quattro anni che prossimo non vince un mondiale e diventa il quarto pilota a far parte di questa classifica ora arriviamo al quinto l'unico che può ancora battere questo record incredibile e chi sarà mai louis emilton perché perché ragazzi è l'unico pilota in attività di quello che abbiamo di quelli che abbiamo citato emilton è l'unico pilota che può battere questi record in che senso emilton vinse il primo mondiale nel 2008 battendo felipe massa rivinse il mondiale nel 2014 quindi ben 5 anni dopo non battendo il record di lauda che fece il record con sette però cinque anni dopo vinse il mondiale nel 14 15 biennio nel 2016 perse il mondiale con nico rosberg e poi li rivinse dal 2017 al 2020 qui sono tre epoche sono andato a vedere 2008 sosta 2014 15 sosta 2017 20 ora ragazzi se emilton vincesse un altro mondiale sarebbe l'unico pilota nella storia a vincere mondiali per quattro epoche diverse perché sappiamo che da due anni lui perde il mondiale nei confronti di max versappen emilton sarebbe l'unico pilota a vincere quattro in quattro epoche diverse sarebbe clamoroso sarebbe un qualcosa di eccezionale mai nessun pilota aveva perso per tre volte il mondiale se l'era ripreso emilton sarebbe il primo a fare una cosa così eccezionale sarebbe clamoroso ragazzi quindi mi faceva piacere condividere con voi questa statistica particolare non ho mai sentito nessuno parlarne tra le mille milioni di statistiche che tutte le riviste e i siti hanno overano siamo gli unici probabilmente che hanno parlato di riprendersi il mondiale dopo averlo perso e menzionare questi campioni che o due o tre volte addirittura si sono riusciti a prendere il mondiale emilton potrebbe essere l'unico a vincere il mondiale in quattro epoche diverse quindi pensate un po voi sarebbe incredibile un record assoluto la veramente sarebbe uno dei top emilton ai massimi livelli perché è un qualcosa che nessuno è riuscito a fare quindi fatemi sapere se vi è piaciuta questa classifica molto particolare che vi ho posto e ci ci vediamo nei prossimi video